Un ottimo esempio di unione e condivisione, non se ne vedono molti in città. I gruppi scout dello Shaka 1 e Shaka 2 hanno celebrato assieme ieri la giornata d'inaugurazione del nuovo anno di attività. I due gruppi hanno le proprie sedi, uno nel quartiere di San Michele e l'altro alla Marina, ma per l'occasione è stato il centro storico della città a fare da cornice e teatro alle cerimonie e alle celebrazioni della giornata, che hanno visto 200 ragazzi dagli 8 e 21 anni e una quarantina di educatori scout impegnati in piazza Angelo Scandaliato, nell'atrio superiore del comune, nella chiesa di San Domenico e nelle principali vie e piazze del centro abitato. Il tema della giornata è stato quello della scelta, educare a scegliere e a fare scelte forti, anche andando controcorrente in nome dei valori scout è una delle finalità educative della GESCI, l'ambientazione per il grande gioco, quella di Alicia nel Paese delle Meraviglie, che non sa quale strada deve prendere. La giornata si è aperta con un momento di cerimonio ufficiale, che ha avuto come filo conduttore una riflessione di Papa Francesco sulla scelta che il percorso della vita necessariamente comporta tra due strade, fra onestà e disonestà, tra fedeltà e infedeltà, tra egoismo e altruismo, tra bene e male. Era presente anche il nuovo assistente ecclesiastico della zona concordia della GESCI, Donaldo Sciabarrasi, a seguire poi la Santa Messa presso la chiesa di San Domenico, concelebrata dai due parroci, Padre Pasqualino di San Michele e Padre Giuseppe della Marina. La prima parte della giornata si è conclusa con il pranzo comunitario condiviso con le famiglie dei ragazzi scout di entrambi i gruppi, mentre il pomeriggio è stato dedicato alla cerimonia dei passaggi, che nello scoutismo caratterizza un momento importante del percorso educativo di crescita del ragazzo. A conclusione della giornata di apertura sono stati consegnati i mandati per il nuovo anno scout ai capi educatori delle diverse branche dei due gruppi, che per le rispettive comunità quest'anno sono Giussi Caracausi e Nicola Segreto per lo Sciacca 1 e Daniela Ferrara e Nino Porrello per lo Sciacca 2. Lo scoutismo della GESCI è ritornato a Sciacca nel 1994 con la riapertura del gruppo Sciacca 1, poi nel 2004 ha raddoppiato con l'apertura del gruppo Sciacca 2. In questi 23 anni centinaia e centinaia di ragazze hanno avuto la possibilità di vivere la proposta educativa scout, nella quale ha sempre avuto una forte presenza l'educazione all'amore e al servizio per la propria città. Non a caso nel corso della giornata di apertura del nuovo anno scout è stato presentato un videoclip sull'esperienza vissuta dai lupecchi del gruppo scout Sciacca 2 alla scoperta della storia, delle bellezze e della tradizione della città di Sciacca, in un'attività che si è sviluppata in quattro tappe, consentendo di approfondire la conoscenza e la consapevolezza delle ricchezze del territorio, ma anche di conoscere personaggi importanti della storia cittadina come Tommaso Fazzello, Giulietta Normanna, Don Michela Rene e Vincenzo Licata.